Ave Maria piena di grazia il Signore con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Padre Dio prego per te e tu sei benedetta fra le donne Allerta, allerta, allerta che cammina, non la stessa finita dalla sera alla mattina Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Padre Dio prego per te e tu sei benedetta fra le donne e benedetta fra le donne Che tremi, che tremi, che tremi ogni fascista, oggi parla e tutta femminista Conteo, 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 Conteo Grazie a tutti.